Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo finalmente di Obi-Wan Kenobi, ultima serie Star Wars, iniziata su Disney Plus il 27 maggio e finita oggi 22 giugno. La miniserie in teoria conta 6 episodi, non dovrebbe esserci una seconda stagione, anche se mi spaventa il fatto che l'ultimo episodio sia stato chiamato finale di stagione, non finale di serie, cosa che solitamente per le miniserie viene scritto, ma sinceramente penso sia anche un po' prevedibile dalla miniatura e dal titolo di questo video, spero che finisca qui questa Obi-Wan Kenobi. Prima di iniziare, come sempre però vi invito a seguirmi su tutti i social, link in descrizione, Instagram, Twitter e TikTok, tutto in descrizione, assieme al link di Pampling dove potete acquistare la t-shirt a tema The Mandalorian, in realtà, che indosso oggi, codice Il Pensiero 4 per il 20% di cashback e un paio di calze, gratis, a scelta, ma adesso parliamo di Obi-Wan Kenobi. Questa recensione sarà per lo più senza spoiler, ma in realtà ci saranno degli spoiler all'interno del discorso, perché sapete che comunque per le serie che escono per lo più su Disney+, quelle settimanalmente, io faccio un'unica recensione appena la serie è finita e appunto la faccio a spoiler, perché comunque se seguite la serie l'avete già vista. Quindi, ripeto, il discorso sarà per lo più senza spoiler, ma all'interno ci saranno anche dei dettagli, quindi se non avete visto la serie vi invito ad uscire dal video. Premesso, io non sono mai stato un grandissimo fan di Star Wars e se mi seguite sapete sicuramente che io mi sono appassionato all'universo, a questa galassia lontana lontana, solo nel 2021, inizio 2021, quando ho iniziato a vedere la saga. E ora appunto, piano piano, sto guardando tutte le serie, tranne quelle animate che non mi interessano particolarmente, anche se so che sono canoniche, e su questo vorrei discuterne, perché non so quanto siano canoniche ancora ora dopo Obi-Wan Kenobi, e anche se comunque non sono il fan numero uno di Star Wars, posso dire senza problemi che sia Obi-Wan Kenobi che Darth Vader sono i miei personaggi preferiti della saga tutta, e giuro che per la maggior parte delle scene di questa serie ho sperato che morissero tutti. Anche se so che comunque Obi-Wan poi morirà in episodio 4, Anakin morirà poi in episodio 6, e Leia persino morirà in episodio 9, ma ho sperato nella morte di tutti, perché i personaggi in questa serie sono stati resi davvero inutili, ma andiamo con ordine. La serie, la miniserie, conta 6 episodi, 6 parti, e sinceramente i primi due che sono stati rilasciati assieme il 27 maggio non mi erano poi dispiaciuti così tanto, sembrava comunque un'introduzione piacevole, nulla di così eclatante, nemmeno qualcosa di schifoso. I problemi per me iniziano dal terzo episodio, che sembra un po' una battuta perché per le serie Disney+, il terzo e il quarto episodio sono sempre i problemi della serie. Come primissima cosa avevo già paura di vedere una serie su Obi-Wan Kenobi essendo il mio personaggio preferito, proprio perché sapevo che tra episodio 3 e episodio 4 Obi-Wan Kenobi ha fatto solo una cosa, stare lì su Tatooine e guardare da lontano Liu, cosa che a quanto pare no, non è vera, perché in questa serie vediamo che ha conosciuto a fondo Leia e questo rende davvero stupido il modo in cui si rapportano i due in episodio 4 perché qua sembrano quasi davvero avere un rapporto padre-figlia, in qualche modo sembra più o meno quello, e poi in episodio 4 quando muore Obi-Wan, dai è morto, non succede niente questa Leia. Quindi in generale già questa serie parte con dei problemi, perché questo incontro non doveva starci, non doveva esserci o almeno non doveva essere in questo modo, e soprattutto perché il problema si trova al centro della serie. Semplice, perché Obi-Wan Kenobi doveva essere a Star Wars Story, proprio come è stato per Han Solo e Rogue One. Doveva essere un film, penso comunque con Iwan e Gregor, con Kristen, come si chiama, Aiden Christensen per il ruolo di Darth Vader. Problematico anche il film, sicuramente, però non era pensato per essere diviso in sei capitoli. E si vede perché la parte centrale di questa serie è prolungata, annacquata con nemmeno delle idee intelligenti, interessanti, sempre la stessa idea ripetuta. Leia che viene rapita, Obi-Wan che la va a salvare. Leia che viene rapita, Obi-Wan la va a salvare. Leia che viene rapita, Obi-Wan ci sta un po' di più a salvarla, la nasconde sotto la tunica, nessuno vede che hanno quattro gambe sotto quella tunica, però comunque la salva. E poi in questa serie ci viene presentato in realtà uno dei personaggi che ho adorato di più in Star Wars, ovvero Riva, Reva, come volete chiamarla la chiamate. Questo personaggio che è stato introdotto fin da subito in Obi-Wan, la terza sorella degli inquisitori, che poi diventa il grande inquisitore, il maggior inquisitore, e poi si scopre comunque essere sempre stata brava, anche se ha tagliato braccia di là e di qua, e non si è esattamente comportata da brava persona. È un personaggio che ho adorato tantissimo, così tanto che quando entrava in scena volevo davvero schippare. E non solo perché il personaggio è scritto a caso senza un minimo di spessore e di senso, anche se comunque un minimo di senso lo prende verso la fine, ma me lo son fatto andare bene. L'attrice, mi dispiace dirlo, è pessima. Ok, doppiata è giusto un po' meglio, però in originale è qualcosa di inguardabile. Non ho mai visto l'attrice in altri prodotti, non so se in qualche altro ruolo è guardabile, accettabile, o anche persino bravissima, però nel ruolo di Reva no. E la cosa bella è che ci sono dei rumor che questo personaggio avrà una serie spin-off. E dopo aver visto l'episodio finale, penso assolutamente che non abbiano alcun senso degli episodi incentrati solo su di lei. In poche parole, Reva era una di quei bambini che Anakin dovrebbe aver ucciso in episodio 3, e così in teoria è stato. Solo che lei è stata così furba da fingersi morta, nonostante fosse stata trapassata da una spada laser. E poi parliamo delle spade laser in questa serie, ma in generale nello Star Wars attuale. Ed è riuscita a sopravvivere fino adesso. Si è iscritta poi al corso di inquisitrice, è diventata la terza sorella, così solo per poi sconfiggere Darth Vader, Anakin. Non so come abbia fatto a scoprire che Darth Vader in realtà fosse appunto Anakin, però così è. Parliamo appunto delle spade laser. Questi giocattolini a questo punto, visto che non fanno niente ormai in Star Wars. Qui la gente viene trapassata così da parte a parte con le spade laser e rimangono in vita, come per esempio il grande inquisitore, quel tizio lì con il trucco. Viene davvero trapassato da parte a parte e rimane in vita. Vabbè che abbiamo l'esempio di Darth Maul che viene tagliato in due, è appunto secondo me un problema anche lì. Però non sembra ormai stupido che i personaggi abbiano la spada laser e queste non siano così tanto mortali, anzi non fanno davvero nulla, perché il grande inquisitore sta bene, ok, può avere quanti stomaci volete, ma sei comunque stato ferito mortalmente e sei lì tranquillo. Anche Riva in effetti poi viene trapassata due volte, una da bambina e una da grande e rimane in vita e tra l'altro nell'ultimo episodio è a posto. È lì tranquilla su Tatooine che cerca di uccidere Luke, il baby Luke, a posto. Non è successo nulla. Per quanto mi riguarda rende vano qualsiasi scontro con le spade laser, compresi quelli tra Anakin e Obi-Wan, visto che ce ne sono stati più di uno, e questo rompe alcune cose dette in episodio 4, visto che è stato detto che loro non avrebbero dovuto combattere altre volte dopo quella su Mustafar. Eppure qua hanno più incontri e soprattutto due scontri. Uno nell'episodio 3, che è arrivato davvero velocemente, non me lo sarei aspettato così velocemente, non l'ho apprezzato nemmeno così tanto, e uno nell'episodio 6, che mi ha ricordato molto quello su Mustafar, anche se la regia è diversa, ma è comunque abbastanza terribile, quindi per questo mi ha ricordato quello in episodio 3. Per quanto è epico possa sembrare, quello in episodio 3 è diretto da Kani. E questo non scherza, infatti la regia in realtà di tutta la serie non è che sia questo granché. Non ho mai visto nulla di questa Chou, penso si chiami così la regista, ma Obi-Wan sinceramente mi basta e avanza. Mi ha dato davvero quel senso di noia, di qualcosa già visto, più e più volte, anche perché sembra comunque la stessa dinamica di The Mandalorian, ovvero Grogu viene rapito, The Mandalorian lo va a salvare, Grogu viene rapito, Dean lo va a salvare. E qui la stessa cosa solo con Leia e Obi-Wan. Il modo in cui hanno trattato tra l'altro Darth Vader, non dico che mi abbia fatto schifo, ma non mi ha fatto neanche impazzire, diciamo così. Usa la forza quando vuole, sa di avere quel potere, ma non lo usa due volte, per esempio vi dico solamente il fuoco, nel terzo episodio non spegne le fiamme, cosa che poteva fare tranquillamente per arrivare a Obi-Wan. Poi nel quinto episodio rompe un'astronave con una CGI terribile, infatti la CGI della serie nella maggior parte dei casi è inguardabile. Poi parte la vera astronave in cui stanno Obi-Wan e company e non la ferma, non la distrugge così, perché ovviamente la trama diceva che Obi-Wan sarebbe sopravvissuto fino a episodio 4 e ovviamente Darth Vader non può fare quest'altra retcon. In tutto questo velocemente siamo arrivati al sesto episodio, che è quello che in realtà mi è piaciuto di più tra tutti. È il finale, ok? Ma anche lo scontro, che in realtà non è stato questo gran che, ha quel po' di epico che mi è piaciuto. Sono un po' combattuto sul finale perché per la maggior parte ero lì messo così a guardarlo, però, soprattutto per le scene di Riva, però ci sono anche delle scene che mi sono piaciute. Nostalgia, fanservice totale. Soprattutto quando Ben Kenobi si avvicina a Luke e dice Hello there! Ho visto il sesto episodio solo in italiano, non l'ho ancora visto in originale, non penso lo vedrò, però l'Hello there di Obi-Wan è stato tradotto e adattato come ciao tu. Questa cosa mi ha fatto un po' stranire lì per lì, però spero aggiustino prima o poi perché o non hanno capito il riferimento oppure semplicemente non ricordo io l'adattamento dell'Hello there ai tempi. Però non penso assolutamente fosse ciao tu. Poi oltre a questo, che è un fanservice per il meme che ormai si è andato a creare da anni, c'è anche la comparsa molto prevedibile di Qui-Gon Jinn, interpretato ancora da Liam Neeson, abbastanza diverso dal 2001, possiamo dire, dal 99 in realtà. Lui muore in episodio 1, quindi nel 99. E poi anche durante lo scontro c'è una scena che era stra-prevedibile. Obi-Wan, che con quella spada giocattolo, perché ormai quello è, rompe il casco a Darth Vader, cosa che a quanto pare nelle serie animate è già successo. Ahsoka l'ha fatto durante uno scontro e fanno vedere appunto Anakin sotto la maschera. Anakin, Aiden Christensen, penso sia lui, sì. Penso sia lui con del trucco prostetico, almeno quello non è fatto in CGI, fortunatamente. E probabilmente era la cosa più prevedibile durante lo scontro finale tra loro due. Tra incontri, scontri, battutine che non dovrebbero esserci, questa serie, dico che, non mi ha fatto impazzire. Il finale non mi è dispiaciuto, tra tutti gli episodi secondo me è il migliore, ma perché gli altri fanno schifo in pratica, tranne, vabbè, i primi due episodi che sono davvero un'introduzione molto, molto semplice, anche quella in realtà ripetitiva, perché vediamo la routine di Obi-Wan, soprattutto nel primo episodio, e, vabbè, quello è, diciamo contestualizzato, era fatto apposta ripetitivo, mentre la parte centrale, quella grandissima palla, no. È stato solo per annacquare così tanto la parte centrale di quello che una volta era Obi-Wan a Star Wars Story. In tutto questo, nonostante io abbia visto Rogue One una sola volta e non lo ricordi nemmeno così tanto bene, ammetto che dopo il trailer di Andor aspetto tantissimo quella serie, perché al momento mi sembra l'unica che effettivamente non doveva essere un a Star Wars Story, tralasciando The Mandalorian che, vabbè, quello si capisce che è molto un qualcosa di seriale, perché sono le tipiche quest da videogioco, quindi fai quello, fai quell'altro. Obi-Wan stava prendendo questa via, fortunatamente si è salvato, diciamo così, in corner e non è diventato un videogioco assolta, ma come sempre, prima di chiudere questa recensione do un voto al prodotto che recensisco ed il voto per Obi-Wan Kenobi è un 5. Mi spiace, Obi-Wan davvero è il mio, lo continuo a dire, è il mio personaggio preferito di Star Wars, in generale, di tutta la serie, di tutta la saga, quindi anche in quei film in cui non compare, naturalmente l'Obi-Wan di Iwan McGregor, non quello di episodio 1, di episodio 4, scusate. Però preferirei dimenticare questa serie, a parte qualcosina dell'episodio finale. Ora, aspettatevi sicuramente l'annuncio della seconda stagione, perché arriva, arriva sicuramente, è stato un grande successo questa serie su Disney+, è la serie che ha avuto il benvenuto migliore sulla piattaforma, quindi aspettatevi la seconda stagione. Io non la voglio, e non vorrei nemmeno la serie su Riva in realtà. In tutto questo, perché il titolo di questo video è la miniatura? Perché davvero questa serie ha buttato Star Wars nell'umido, nell'immondizia. Tutte le cose che vengono dette, fatte vedere, la maggior parte delle cose che vengono fatte vedere, rompono il canon delle serie animate, perché non le ho viste, ma so cosa succede perché mi è stato detto, e rompe anche il legame che c'è tra la trilogia prequel e quella originale. Soprattutto episodio 4, con reazioni, scontri, che a questo punto, vedendo Obi-Wan, non hanno più lo stesso pathos, per nulla. Ma ragazzi, come sempre vi invito a lasciare un like al video per supportare il canale, iscrivervi se non siete iscritti, seguirmi su tutti i social, link in descrizione, Instagram, Twitter e TikTok, tutto in descrizione, assieme al link di Pampling, codice ilpensiero4, per il 20% di cashback, un paio di calze gratis. In descrizione comunque, oltre a Pampling, c'è anche il link di Tickets for Nerd, del Fantasia Store, per prendere Funko Pop, giochi in scatola, carta collezionabile e tanto altro. E niente, vi ringrazio per essere rimasti fino alla fine, io sono Andri, questo è stato un altro mio pensiero per voi, noi ci vediamo in un prossimo video, sempre su questo canale, Andri passa e chiude. Ciao!